Il sindaco di Pordenone, Claudio Pedrotti, ha presentato in municipio i componenti della nuova giunta comunale, evidenziando che si tratta di una giunta costituita da persone che hanno i profili giusti per il lavoro che dovranno svolgere e che l'esecutivo ha due elementi qualificanti, la competenza tecnica e la visione di una capacità strategica per la città. La nuova giunta comunale è così composta. Claudio Pedrotti, sindaco con le seguenti deleghe, bilancio e tributi, patrimonio, teatro, controllo di gestione strategico, servizi informativi, politiche produttive del lavoro, sport, politiche del conurbamento e rapporti con le partecipate. Renzo Mazzer, vice sindaco con delega ai lavori pubblici e protezione civile. Nicola Conficoni, ambiente e mobilità. Chiara Mio, istruzione, formazione e saperi per l'innovazione. Vincenzo Romor, politiche sociali, politiche per la famiglia, sanità e servizi assistenziali. Martina Toffolo, urbanistica. Flavio Moro, vigili urbani e politiche per la sicurezza, coordinamento civico. Bruno Zille, affari generali ed istituzionali, decentramento e commercio. Infine Claudio Cattarruzza, cultura, politiche giovanili, turismo e promozione della città. Signor sindaco, è soddisfatto dei suoi nuovi compagni di percorso? Molto. Alla fine è stata una discussione con la coalizione facile, che fosse trapelato. e che ha portato secondo me all'individuazione delle persone giuste per le cose giuste. Noi abbiamo un programma piuttosto impegnativo nei prossimi anni da affrontare in città e ci tenevamo ad individuare quelle caratteristiche, quei profili che ci garantissero che nell'evoluzione strategica di Pordenone le persone coinvolte fossero davvero quelle giuste. Grazie. 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 Grazie.